Come vorrei essere? Vorrei essere un CT per bene, prima di tutto, e poi che riesca a riportare l'Italia dove merita, cioè sul tetto del mondo e sul tetto d'Europa, perché comunque non vinciamo l'Europeo da tantissimi anni, quindi questa sarà, a parte la National League, ma comunque sarà il primo appuntamento importante e più vicino, quindi vorrei essere quello che riuscirà a ricostruire e riportare la Nazionale veramente ad alti livelli. Io adesso ho tanti anni che alleno e penso che questo potrebbe essere il momento giusto, perché comunque bisogna fare qualcosa per la Nazionale, non essere andati ai mondiali è una cosa per noi che abbiamo fatto il tifo per la Nazionale da sempre, è una cosa abbastanza difficile e quindi in un momento così difficile ho pensato che forse poteva essere il momento giusto e ripeto, credo che ogni allenatore poi alla fine aspira a diventare il CT della Nazionale. Dovremmo essere noi a riavvicinare la Nazionale ai tifosi, perché poi quando la Nazionale gioca e fa divertire, i tifosi sono tantissimi e sono molto vicini, quindi questa è la cosa più importante. Credo che una cosa importante sia questa, cioè che i giocatori che arrivano alla Nazionale tirino fuori i sogni che loro hanno nel cuore, perché poi quando uno pensa da giovane e vede alla tv le partite della Nazionale e fa il tifo, ognuno di loro ha sogni, io vorrei arrivare lì e riuscire a vincere il Mondiale con la mia Nazionale, quindi credo che i sogni siano molto importanti e riuscire a dare il massimo per la Nazionale, quindi sono queste cose qua insomma.